ciao a tutti sono qui per annunciarvi il vincitore allora due di questi film due dei tre si sono presi a colpi di spada c'è proprio vicinissimi alla parità poi c'è stato un voto all'ultimo che alla fine ha definito il conteggio quindi l'ha reso finale quindi posso dire che il vincitore di questo nuovo format è il film la terza mano grazie per aver preso parte a questo nuovo format ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e non neanche saluto tutti i nuovi iscritti iscritti più affezionati come ultima cosa vi dirò che domani uscirà un nuovo format quei due che non hanno vinto rimarranno nel format e si aggiungerà una nuova entrata una new entry che ovviamente domani saprete va bene questo è tutto la vincitrice della terza mano grazie a tutti per aver votato e al prossimo format ciao